Come comune siamo pronti a sostenere la pubblicazione internazionale del ricercatore cilentano e biologo il dottor Aldo Giudice e del dottor Giovanni Darena riguardo la terapia per contrastare il virus. Queste le dichiarazioni del presidente del Consiglio Comunale di Agropoli Massimo Laporta in diretta tv su Cilento Channel. Il comune di Agropoli crede in questa pubblicazione, ha detto Laporta, conosco personalmente il dottor Giudice e posso garantire che lavora sulla ricerca da 30 anni ed è un dipendente del Pascale di Napoli. La ricerca che stanno portando avanti sarà una soluzione migliorativa alle terapie attuali e riguarda la cellula aggredita dal virus il calcio. La terapia di inibizione del calcio già sta dando i primi segnali. Intanto l'editore di Cilento Channel Gianni Petrizzo ha annunciato la presenza del dottor Aldo Giudice in diretta per il giorno 7 aprile alle ore 18.